26 Aprile 2022, Messaggio di Nostra Signora Regina della Pace Cari figli, voi appartenete al Signore e solamente Lui dovete seguire e servire. Non vi dimenticate. Voi siete nel mondo, ma non siete del mondo. Mio Figlio Gesù ha bisogno della vostra testimonianza sincera e coraggiosa. Difendete con gioia la vostra fede. Accogliete gli insegnamenti del vero Magistero della Chiesa del mio Gesù. Camminate per un futuro di grandi prove. Il demonio diffonderà confusione nella casa di Dio e molti perderanno la fede. Io sono la vostra madre e soffro per quello che viene per voi. Pregate. I nemici agiranno sempre di più affinché la zizzania venga gettata in mezzo al grano. In pochi luoghi troverete la verità, ma un gruppo di coraggiosi soldati agirà affinché la Chiesa del mio Gesù vinca. Avanti nella difesa della verità. Cercate forze nel Vangelo e nell'Eucaristia. Questo è il messaggio che oggi vi trasmetto nel nome della Santissima Trinità. Grazie per avermi permesso di riunirvi qui ancora una volta. Io vi benedico nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. Amen. Rimanete nella pace.